Le proteste spontanee degli agricoltori che si stanno organizzando in questi giorni in diverse zone della Sicilia, ma anche in tutta Italia, sono arrivate nella territorio di Modica. Conf Agricoltura Ragusa comprende e condivide molte delle ragioni che spingono gli agricoltori a scendere in piazza. Sulla crisi in alto del comparto, la federazione regionale ha avviato una serie di incontri urgenti con i prefetti di tutta la Sicilia, con delle richieste operative precise. Da sempre chiediamo di intervenire per migliorare la produttività e la competitività delle nostre imprese, per difendere produzioni e posti di lavoro, per far crescere la dimensione aziendale dando una spinta all'agricoltura 4.0 e alla ricerca scientifica, fondamentale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ottenere varietà più resilienti. Tra le nostre priorità c'è il rafforzamento del sistema assicurativo in agricoltura, sollecitando la riforma della normativa sulla gestione dei rischi per arrivare ad una maggiore diffusione delle coperture assicurative, alla riduzione dei costi per gli agricoltori e alla semplificazione delle procedure. Continuiamo a lavorare insancabilmente per sostenere gli agricoltori e promuovere soluzioni concrete a sostegno del settore agricolo, fondamentale per l'economia locale e nazionale, in un momento molto complesso in cui la liquidità delle aziende del settore primario è quasi azzerata e dall'aumento dei costi di produzione e dalla diminuzione dei prezzi all'origine.